Rieccoci su Sicilia 24 per una nuova edizione di Spazio Notizia. Parliamo di politica, delle elezioni comunali a Palermo. Il centrodestra sembra aver deciso di convergere su un unico candidato che potrebbe essere Roberto Lagalla, ma sarà probabilmente decisivo il vertice, l'incontro in programma oggi. Intanto vediamo il servizio. Il centrodestra converge verso un candidato unico a sindaco di Palermo, secondo quanto scrivono in serata i coordinatori regionali dei partiti dello schieramento. A seguito delle interlocuzioni tra i candidati Francesco Cascio, Roberto Lagalla e Totò Lentini, unitamente alle forze politiche del centrodestra che li sostengono, è stato deciso di come un accordo, dicono in una nota congiunta, di dare vita a un incontro per trovare, con spirito unitario, una sintesi e a divenire a una unica candidatura a sindaco. Secondo quanto riferito da Italpress, che cita fonti qualificate della coalizione, durante l'incontro in programma oggi tutti i partiti del centrodestra dovrebbero convergere sulla galla candidato unico. Cascio dovrebbe invece ritirarsi dalla corsa e al momento non sarebbe previsto alcun incarico per l'ex presidente dell'Ars, mentre Lentini, con ogni probabilità, avrà un ruolo nella giunta alla galla qualora l'ex rettore dell'Ateneo di Palermo dovesse essere eletto. Dopo le frizioni dei giorni scorsi, dunque, si sarebbe giunti a una vera e propria svolta, anticipata ieri pomeriggio dalla nota congiunta firmato Tolentini e Gianfranco Miciche, nella quale i leader di Alleanza per Palermo e di Forza Italia annunciavano che ci siamo incontrati per trovare assieme una soluzione unitaria per un centrodestra coeso, forte e vincente a Palermo, in vista delle amministrative del 12 giugno. Abbiamo convenuto un percorso comune per il bene della città. Secondo le ultime notizie, il summit, inizialmente in programma a mezzogiorno, è slittato in serata. Dunque vedremo se arriverà oggi il tanto atteso annuncio del candidato di centrodestra, quindi vedremo se alla fine le forze di coalizione troveranno un'intesa su, a quanto pare, Roberto Lagalla. E intanto a proposito di Lagalla ci sono delle dichiarazioni di Nello Musumeci, delle brevi dichiarazioni, eccole qua, siamo su spazionotizia.it. Il governatore dice siamo orgogliosi della candidatura di Lagalla. Siamo orgogliosi, ha detto di avere l'ex assessore Roberto Lagalla, candidato sindaco a Palermo. È una candidatura ottima per il centrodestra, ha affermato Musumeci, conversando con i giornalisti a Palazzo dei Normani. Dunque vedremo durante il pomeriggio se arriveranno novità e se ci saranno nuovi sviluppi. Ora la cronaca da Trapani. Un uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Vediamo il servizio. I grabinieri delle stazioni di Erice e Trapani Borgo Annunziata hanno arrestato un 44enne già gravato da precedenti, per cui sono emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine all'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare durante una discreta azione di controllo dei movimenti dell'uomo, già sospettato di essere dedito allo spaccio di stupefacenti, i grabinieri hanno proceduto alla perquisizione di un edificio di edilizia popolare, nel quale lo stesso passava la maggior parte del proprio tempo, pur non essendo la sua abitazione di residenza. In tale contesto i militari dell'arma hanno atteso il momento più opportuno per intervenire, ovvero mentre avveniva la compravendita di una dose di droga tra il 44enne e un assuntore abituale, quest'ultimo poi segnalato alla competente prefettura di Trapani. Una volta all'interno del locale i grabinieri hanno rinvenuto 73 grammi di hashish, 18 grammi di cocaina, 33 grammi di cristalli di crack, una sorta di libro mastro con cifre e nomi che potrebbe riportare la contabilità di presunte attività di spaccio, un bilancino di precisione e la somma contante di 75 euro, verosimilmente provento del traffico illecito. Sono stati rinvenuti inoltre un grosso coltello con la lama ancora sporca di hashish, una macchina per il sottovuoto con le relative buste e materiale vario utile al confezionamento delle dosi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe adibito l'immobile a vero e proprio bazar di sostanze stupefacenti. A tale scopo era stata collocata una robusta porta in acciaio con una finestrella scorrevole dalla quale gli investigatori ritengono avvenisse lo spaccio. Il locale era provvisto anche di ben 5 telecamere a circuito chiuso posizionate su tutto il perimetro esterno. Parliamo ancora di droga con una notizia che ci arriva da Canicattini-Bagni dove un uomo è stato arrestato, uno spacciatore è finito in manette grazie anche al fiuto del cane Rilei. Leggiamo dunque nei dettagli la notizia. Come detto i carabinieri di Canicattini-Bagni hanno arrestato un 28enne trovato in possesso di stupefacenti durante una perquisizione domiciliare. I militari hanno operato all'alba il cane Rilei con il suo infallibile fiuto in un anfratto del terreno di pertinenza dell'abitazione del pregiudicato ha segnalato la presenza di stupefacente che immancabilmente è stato rinvenuto dai militari. Si tratta di hashish e marijuana per complessivi 200 grammi. Durante le operazioni sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e il materiale utilizzato per confezionare le dosi, nonché la somma di 525 euro in banconote di piccolo taglio ritenuta provento dello spaccio. E questa è la notizia che ci arriva da Canicattini-Bagni, dunque con questo spacciatore finito in manette. Adesso a Mister Bianco dove i carabinieri in una macelleria hanno trovato delle munizioni e anche una mitragliatrice. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno denunciato un 55enne di Mister Bianco in quanto gravemente indiziato di detenzione abusiva di munizionamento. Questa volta, a finire sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, è stato il titolare di una macelleria ubicata a Mister Bianco. All'esito di una pregressa attività info-investigativa, i carabinieri hanno deciso di entrare in azione e si sono presentati davanti all'attività del commerciante, eseguendo una perquisizione, all'esito della quale hanno rinvenuto nella disponibilità del titolare un mazzo di chiavi e una chiave appesa sulla parete, retrostante la cassa. Pazientemente, i militari hanno provato la chiave nelle aree adiacenti il negozio in tutte le serrature, accertando poco dopo al civico successivo che la stessa apriva un lucchetto posto a chiusura di un pozzetto al cui interno vi erano due contatori dell'acqua e anche numerose cartucce calibro 45. Una delle altre chiavi, invece, ha consentito di aprire la porta di un garage vicino al negozio al cui interno, occultati sotto blocchi di cemento e pneumatici di autovetture, sono state rinvenute complessivamente 189 cartucce di vario calibro, tra cui 100 calibro 7,65. Il rinvenimento di un così cospicuo munizionamento ha fatto presagire ai carabinieri che nelle aree di pertinenza condominiale potessero essere nascoste altre munizioni o armi e, in effetti, hanno questa volta sequestrato, a carico di ignoti, ulteriori 173 cartucce di vario calibro e marca occultate dietro un mattone all'interno del vano contatori dell'elettricità del condominio e dentro un altro pozzetto. Una pistola mitagliatrice Scorpion calibro 7,65 non scienzita nella banca dati con due caricatori di cui uno inserito e un altro con 12 cartucce calibro 7,65 nascosta in un doppio fondo abilmente realizzato all'interno del detto vano contatori. Ci spostiamo a Enna dove la Guardia di Finanza ha scoperto 26 lavoratori in nero o irregolari. Andiamo nel dettaglio della notizia i controlli che hanno coinvolto tutti i reparti delle fiamme gialle nella provincia hanno interessato imprese di diversi settori economici dal commercio al dettaglio ai servizi alla persona alla ristorazione e alle aziende artigiane su 24 attività ispezionate 16 sono le imprese a cui sono state contestate violazioni per le quali è prevista la cosiddetta maxisanzione che prevede pesanti conseguenze economiche in proporzione al numero di lavoratori impiegati in nero oltre al recupero delle contribuzioni previdenziali e assicurative evase e la conseguente regolarizzazione del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti. Indagini della Polizia Economica Finanziaria sono in corso sulle scritture contabili e delle aziende coinvolte per l'accertamento della connessa evasione. Questa dunque la notizia che ci arriva da Enna. E adesso a Modica dove un farmacista e il suo magazziniere sono stati denunciati. Perché? Perché prescrivevano farmaci veterinari in nero pensate un po' per aumentare la produzione di latte nelle mucche. Vediamo il servizio. Per almeno un anno hanno continuato a vendere a numerosi allevatori della zona tra Modica e Ragusa farmaci veterinari in nero e senza le previste ricette mediche e per questo due soggetti un farmacista e il suo magazziniere sono stati deferiti all'autorità giudiziaria oltre a subire il sequestro dell'attività e la sospensione dell'esercizio della professione di farmacista per il titolare. La vicenda prende via nel 2020 quando i carabinieri della stazione di Ragusa Ibla iniziano a raccogliere informazioni circa un presunto giro sospetto di farmaci ceduti con troppa facilità da alcuni allevatori di bovini della zona al fine di incrementare in modo innaturale la produzione di latte degli animali. Parte dunque una serrata ed estremamente articolata attività di indagine che attraverso intercettazioni, pedinamenti e controlli su strada permette di ricostruire il sistema attraverso cui i due soggetti smerciavano i farmaci senza curarsi di quanto previsto dalla vigente normativa di settore. Durante il lungo periodo degli accertamenti i carabinieri hanno sequestrato farmaci veterinari per un valore complessivo di 16.000 euro intercettando i responsabili proprio durante i loro viaggi nelle campagne Ible dove effettuavano a domicilio le consegne di cui tenevano un dettagliato resoconto per poi stabilire i compensi da richiedere. Coinvolto nella vicenda anche un medico veterinario della zona il quale dietro pressione del farmacista che prometteva un adeguato compenso per il disturbo emetteva posteriori false prescrizioni per i farmaci illecitamente venduti in modo da regolarizzare l'intero iter di vendita. Emerge quindi un meccanismo ben studiato nel quale anche il semplice magazziniere si arrogava le competenze per consigliare agli allevatori i farmaci da somministrare agli animali con i rispettivi dosaggi che arrivavano a incrementare fino al 100% la produzione di latte da parte delle mucche. Ed ora a Marsala dove il controllo del territorio da parte dei carabinieri ha portato alla denuncia di 5 persone andiamo a vedere perché come detto controllo del territorio da parte dei militari della compagnia di Marsala durante un controllo a seguito di perquisizione personale sono stati sorpresi due soggetti di 39 e 22 anni con in tasca dei coltelli a serramanico di circa 15 centimetri. Un altro soggetto classe 67 sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari è stato fermato a un posto di blocco nei pressi della sua abitazione alla guida di un'autovettura. Un altro ragazzo appena maggiorenne è stato deferito in quanto a seguito di incidenti stradali esami clinici accertavano che lo stesso era risultato positivo all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche. Infine un ventenne marsalese è stato sorpreso ad asportare cavi elettrici dalla rete pubblica e in possesso di un coltello di genere vietato. Per questo anche lui è stato denunciato. E questa era l'ultima notizia. se non ci sono aggiornamenti dunque possiamo chiudere qui questa edizione di Spazio Notizia ci rivediamo più tardi sempre su Sicilia 24. A dopo. Grazie. Grazie. Autore dei sovrapposti